Si può definire a giusta ragione una vincita sociale quella portata a casa con il fortunato sistema del super enalotto messo a punto dal Paris Bar in zona Tortaia ad Arezzo. A mettere a segno il colpo da oltre 20.000 euro un gruppo di 15 scommettitori, tutti clienti abituali del locale, pensionati e lavoratori della zona. La combinazione vincente che ha fruttato 7,3 stelle e 17,2 stella ha fatto incassare ben 20.640 euro al fortunato gruppo che da circa un mese e mezzo puntava sempre sullo stesso sistema. L'intera vincita sarà adesso suddivisa in 15 parti, ogni giocatore si porterà così a casa 1.376 euro. Il fortunato sistema aveva già fruttato qualche piccola vincita ma adesso ha indubbiamente fatto centro con una somma importante. L'unico rammarico dei gestori del bar, le quattro sorelle Cornicello, è che se il sistema fosse girato e quindi la da bendata avesse baciato i 15 scommettitori del Paris Bar, la vincita sarebbe stata milionaria.